Please approach SCP-173 for testing Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video della storia dei circuiti Oggi andiamo a trattare come circuito il circuito di Albacete Questa è la mappa del circuito Il circuito di Albacete è un tracciato per competizioni automobilistiche e motociclistiche Situato a meno di 10 km dal centro di Albacete Nella comunità autonoma di Castiglia, La Mancia, in Spagna Viene inaugurato il 14 luglio 1990 Caratteristiche Il circuito principale viene percorso in senso orario E aveva una lunghezza di 3.539 km Portata nell'inverno del 2014 a 3.550 km In seguito al lavoro di modifica del tracciato costati 1,1 milioni di euro E' possibile utilizzare anche altre due configurazioni più corte e indipendenti l'una dall'altra Lunga rispettivamente 2.237 e 1.336 metri Le modifiche del tracciato effettuate per migliorarne gli spazi di fuga e la sicurezza Comprendono una riprofilatura della prima curva che viene anticipata e rallentata La trasformazione della curva del ristorante che diventa 90 gradi e con maggiore possibilità di sorpasso La rimozione della Kishikan che precedeva l'ultima curva sostituita dalle nuove curve 13 e 14 La completa di asfaltatura e l'ampiamento delle vie di fuga Lo spostamento delle linee del traguardo Ora davanti alle tribune Un nuovo ingresso ai box posta la penultima curva per evitare i pericoli di quello precedente E infine un incremento del 50% del numero dei box Il rettilineo più lungo è quello del traguardo 595,25 metri Dove si trova la corsia dei box con 36 garage La raghezza minima della pista è di 10 metri Che salgono a 12 in prossimità del rettilineo d'arrivo Le 7 tribune distribuite attorno alla pista possono accogliere conversivamente un massimo di 7200 persone Oltre alla presenza di 30.000 metri quadrati di prato L'intero tracciato è fornito di illuminazione permanente Che permette anche di svolgere attività in notturna Competizione La pista ha spiegato il campionato del mondiale Superbike dal 1992 al 1999 Sulle 16 gare e corse su questo autodromo il pilota a vincere di più è stato Karl Fogarty Con 6 successi Oltre a questa competizione sul tracciato si sono svolte prove a livello internazionale Sia motociclistiche come quali del campionato mondiale Endurance Del campionato mondiale Velocità City Car E del campionato europeo Velocità Sia con camion come il campionato europeo Track Per quanto riguarda invece i campionati a livello nazionale Sul circuito sono state organizzate gare di diverse categorie Tra cui la Formula 3 spagnola di automobilismo E il campionato spagnolo Velocità di motociclismo E questa storia è il circuito di Albacete Se il video vi è piaciuto mi lasciate un mi piace Per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima Ciao Ciao